Siamo molto contenti di presentare oggi una iniziativa che riguarda quello che sarà il giorno della memoria e che sarà un po' più lungo di un solo giorno, poi vi racconteremo, ma soprattutto siamo lieti perché questa iniziativa si inserisce in un percorso. Siamo tutti testimoni, anche se non direttamente abbiamo il dovere di ricordare quanto è avvenuto in passato affinché non accada più in futuro e devo dire che dobbiamo ricordarci che il giorno della memoria non deve essere una semplice commemorazione, ma deve essere qualcosa che ciascuno di noi porta dentro e trasmette a sua volta agli altri. Il giorno della memoria quest'anno sarà un po' particolare, nel senso che le celebrazioni dureranno dieci giorni, dieci giorni e cento eventi, cento eventi in tutta la città, nelle scuole, nelle biblioteche, nei municipi, nei cinema. Cercheremo di far sì che questo ricordo inizi a vivere in tutta la città. Racconteremo la città nel giorno della memoria, nelle giornate che saranno tante della memoria. Siamo in una fase in cui ormai dobbiamo fare memoria della memoria. I sopravvissuti purtroppo se ne stanno andando, le testimonianze dirette si assottigliano, sempre più spesso ci troviamo a dover combattere chi diffonde odio o, peggio, nega. Se un senso deve avere la responsabilità che noi ci teniamo come leader, come comunque propositori, è quello di prendere questo testimone e lavorare sulla memoria della memoria.